Ehi, ciao. Benvenuti in questo barber shop. Io prenderò cura di te e ti farò un taglio eccezionale. Ti vuoi accomodare? Perfetto. Ok, dimmi un attimo che taglio di capelli vorresti? Ok. Dai, è fantastico. Quindi vorresti il crestino. Perfetto. Niente di più bello. Per tanto, accomodateli che ti fanno lo shampoo. Il tempo dello shampoo. E poi ti accorgio i capelli e faccio il crestino. Se ci stiamo un attimo. Non ti preoccupare. Sarà veloce. Li taglierò subito i tuoi capelli. Vai tranquillo. Perfetto, dai. Ok. Ti hanno appena fatto lo shampoo. Accomodati qui adesso. Ok, ok. Iniziamo. Fatti pettinare. Così capisco più o meno come accorgiare il quale taglio di crestino può essere perfetto per te. Ok, fatti un attimo pettinare. Perfetto, perfetto. Ah, quindi mi dice che la vita del prenditore è fantastica, però è pure pesante. Ok. Ok. Non ti preoccupare. Rilassati qui, in questo barbershop. Non più pensare. Goditi il taglio di capelli. Perché il taglio di capelli è sempre molto rilassante. Dunque, 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 dunque. Iniziamo a sfoltire un po'. Grazie, un attimo. Ok, no ancora devo...qua ho fatto la prima spuntata di capelli, non ti preoccupare, sarà tanto veloce, però avrai un trattamento degno appunto della tua immagine, quindi rilassati. Abbiamo appena iniziato a tagliare i capelli, sì, sì, ci sto un poco, non ti preoccupare. C'è un po' da aggiustare, da quanto tempo li hai lasciati allungare? Beh, da un anno che non li dai, è certo che non hai torto, c'è stato il covid, quindi capisco, capisco. E infatti vedo che i tuoi capelli sono tantissimi, cavolo. Dai che ci siamo quasi. Fatti un attimo controllare. Ok, ok. È tutto a posto. Se ti sto pettinando i capelli, per controllare appunto come sta andando il taglio. Questo è tutto in linea appunto. Eh sì, sono molto perfettino per tagliare i capelli. Però, 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 perché avrai un taglio molto molto elegante. Sì, non ti preoccupare. Non ti faccio un taglio, ma lo faccio. È pure un bel viso. È un viso parecchio squadrato. Quindi proprio questo taglio, secondo me, ti starà molto 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 bene. Ok. Fatti spoltire questa parte qua. Ok, perfetto. Ok, ok. Vediamo. Ok, è fantastico. Assolutamente, assolutamente fantastico. Perfetto, perfetto, perfetto. E' super bello. Te lo dicevo, te lo dicevo. Perfetto. Come dici? Ho anche fatta la barba. Non hai torto? Fammi prendere il rasoio. Perfetto. Allora. Ecco, ecco, ecco. Sì. Ok, perfetto, perfetto. Ecco, ecco, ecco. Sì. E pure la barba l'avevi lunga. Sì, sono sempre molto concentrato quando lavoro. Sì. Sì. Dai che la barba la facciamo pure molto molto leggera rispetto a quella che avevi prima. L'avevi molto posta. Ed è bella perché anche a me piace la barba molto posta. Però era troppo trasandata. Si deve un po' aggiustare. Non ti preoccupare. Te la accorgio. Non come la mia. Perché la mia forse è troppo corta per i tuoi gusti. Però sicuramente te l'aggiusto. Perfetto. Ok, perfetto. 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 Ottimo, ottimo. Guarda qui. Fantastico. Adesso ha il viso assolutamente liscio. Ora che mi ci fai pensare qualcosa per rendere i tuoi capelli molto molto più idratati. Dopo ti faccio vedere. Sc sukacere. Scrappare oankinga. Ci spingano. Ok, fatti mettere il topo barba qui, ok perfetto, perfetto, si vede che c'è la tua pelle, se stai idratando molto molto di più, dovrei lavarmi le mani, però, però, non ti preoccupare, dopo le lavo, adesso ti metto un po' di, diciamo, lacca idratante per i tuoi capelli, ok, no, no, non ti preoccupare, non è proprio lacca, è una sorta di balsamo spray, quindi non te li incolla completamente, anzi, te li lascia molto molto morbidi, ti dà quell'effetto bagnato, senza incollarteli, per te va bene? Ok, vuoi provare? Perfetto, dai dividi, ottimo dai, proviamo allora. Ok, perfetto, ti ho finito di sbaruzzare questo balsamo spray, quindi adesso, diciamo che sei come nuovo, ti puoi andare a vedere allo specchio, così mi dici com'è, cosa ne pensi. Perfetto, ah, quindi ti piace? Perfetto, ottimo, ottimo. Allora, ci vediamo alla prossima. Aspetta, aspetta quanto mi devi, dici? Guarda, puoi semplicemente iscriverti al mio canale, questa è la mia forma di pagamento. Pertanto ti auguro una buona giornata e rilassati tanto. Buona giornata caro, buona giornata, ci vediamo alla prossima. Ciao.